Commissionato dalla Fraternita e dei Laici a Felice di Salvatore Vannucci da Fossato, mastro costruttore proveniente da Fossato di Vico, dal 1552, questo orologio astronomico che sta in cima alla torre del Palazzo di Fraternita scandisce il tempo degli Aretini. Fu costruito per diversi motivi. Il primo motivo è per dimostrare il valore istituzionale, ma anche la opulenza economica della Fraternita di quel periodo, proprietaria di tanti ettari di terreno, però la Fraternita aveva uno scopo preciso, quello di rappresentare le fasi lunari. Piazza Grande era il luogo dove la campagna portava i suoi prodotti e la città comprava, quindi la piazza Grande era il luogo di incontro tra la campagna e la città e che veniva qua, guardava l'orologio e vedeva le fasi lunari che erano legati al lavoro della terra. Quindi un servizio che la Fraternita fece alla pubblica opinione della città di Arezzo. È appena partito il restauro del quadrante, finanziato anche da Confartigianato e dovrà terminare entro il prossimo 16 di agosto. In particolare è soprattutto un intervento di tipo cromatico. Il quadrante che è in rame dipinto presenta delle dorature che in parte si stanno degradando e dei colori che oramai hanno perso la cromia. L'ultimo a mettere le mani in questo prezioso meccanismo era stato a suo tempo il temperatore, uno dei pochi rimasti ancora in Italia, Fausto Casi. Temperatore vuol dire mettere a punto, temperare vuol dire mettere a punto la matita, come solito che ci insegnavano all'elementare, almeno ci dicevamo in questi termini. E oggi è rimasta questa voce che, se volete, vi posso dare anche una chicca così, perché in Italia incarico ufficiale di temperatore sono l'unico che ha un incarico su un orologio di tutto rispetto del 1552, quindi ce ne sono 5 o 6 in tutta Italia ancora di questo arco di tempo, diciamo della seconda metà del Cinquecento fino ai primi del Secento e tutti gli altri amici miei, i temperatori che conosco ovviamente per motivi di studi, eccetera, non hanno questi incarichi. Pensionate di confartigianato, come al solito, quando chiamati rispondono a quelle che sono le esigenze della città. La confartigianato ci ha fatto presente che c'era questa necessità, noi con il 5 per mille raccolto abbiamo finanziato il 5 per mille che arriva in confartigianato viene ridistribuito totalmente al territorio, perché sono soldi del territorio e devono tornare al territorio.